Giovanni De Bellis, questa sera, questo pomeriggio qui a Vinovo, una grande emozione per l'Alba Calcio, la vittoria della Coppa Italia, è stata una bella partita soprattutto contro il Borgaro e poi l'emozione di essere riusciti a portare a casa una vittoria ai supplementari anche con la giusta sofferenza, veramente c'è da essere estremamente felici questa sera Sicuramente sono emozionato, scusa ma sono emozionato dopo una vittoria del genere chi è che non è emozionato? Se me l'avessero detto all'inizio dell'anno di arrivare in finale e vincerla come l'abbiamo vinta, non ci credevo, però il sogno si è avverato, è un bel sogno per me e per tutti i miei collaboratori, è un bellissimo sogno. Speriamo che duri a lungo, da una squadra nata così tutta in fretta e furia quest'estate, è un gruppo di ragazzi veramente che sono orgoglioso di loro. Sicuramente il miglior modo per iniziare questa avventura sotto il nome Alba Calcio perché dopo pochi mesi subito un trofeo e tra l'altro poi una posizione in campionato che è una posizione comunque importante, direi che questa prima parte di stagione ha regalato quasi esclusivamente note positive. Sicuramente, a questi inizi di stagione adesso c'è qualche giorno dopo poterci riposare e goderci questa grandissima vittoria che non è finita qui, perché non è finita. Noi il 23 di febbraio si avvicinano i triangolari per i nazionali e questa è un'altra emozione che si aggiunge alla già emozione resistente. Oggi onore anche al Borgaro che ha fatto veramente un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo vi ha messo in difficoltà, quindi è stata anche l'avversaria giusta con cui poi regalarsi una soddisfazione così. Sì, è una buona squadra, ha degli ottimi ragazzi, complimenti anche a loro, hanno trovato per sfortuna loro e per fortuna nostra sulla loro strada un corradino oggi strepitoso che ha cominciato da quando ha parlato di rigore, logicamente la strada per loro si è messa sempre in salita e comunque bravi, bravi loro, noi siamo stati bravi però a non disunirci e siamo riusciti a portare a casa questa grandissima vittoria.